La scimmietta Quando poi arrivano i fotografi ci tiene a fare bella figura Prende accuratamente la mira e... Beh, anche le scimmie qualche volta falliscono il bersaglio Non per niente fanno tutto quello che fa l'uomo Il premio per questa esibizione è una nocciolina E per dimostrare la sua gioia la scimmietta si esibisce in alcune figure di twist Come gli uomini, né più né meno